ciao a tutti buongiorno è la prima volta che vado in diretta in contemporanea su facebook sotto e su instagram sopra quindi ho il doppio schermo ovviamente facebook ha tutta la regia con titoli e tutti dove c'è scritto ancora bassetti nei titoli in prima pagina rassegna stampa su instagram invece non ho nulla quindi guardo un po sopra un po sotto perché siete due utenti due pubblici differenti ciao a tutti buongiorno le prime pagine di oggi allora per gli amici di facebook tutti sanno che la mattina faccio una rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani per gli amici di instagram e le amiche di instagram invece per voi è una novità tutte le mattine do un'occhiata insieme a voi ai giornali quindi un saluto a tutti vedo i saluti che stanno arrivando su instagram e un saluto agli amici di facebook che però non vedo ancora perché l'algoritmo di facebook è leggermente più lentino quindi attendiamo qualche istante che arrivi effettivamente la gente collegata oggi notizie pesanti sui quotidiani purtroppo non riesco a farvi rivedere su instagram ma su facebook che potete vedere tutto perché faccio vedere anche chiaramente le grafiche dei giornali e partirei proprio dal primo giornale dal giornale che di solito leggo o per primo o per ultimo che è la verità il quotidiano la verità perché sul quotidiano la verità ci sono diverse notizie interessanti una in particolare con il corpo centrale a tutta pagina dedicato a matteo bassetti stavo pensando di prendere l'altro telefonino che però non trovo io non so dove cavolo l'ho messo perché potevo farvi vedere in anteprima vabbè farlo stesso come se vi racconto le cose allora intanto andiamo andiamo a vedere la prima pagina amici collegati di intanto salutiamo davide paschetta che da cuneo saluzzo dice che oggi ci sono meno 5 gradi il nostro inviato meteo davide paschetta piemontese con meno 5 gradi abbiamo carlo avventurali collegato anastasia ciao buongiorno abbiamo salvatore da firenze pedalino da firenze abbiamo silvia da brescia faini da brescia ciao grande silvia vedo che iniziano arrivare i primi collegati allora attenzione come sempre vi chiederei di condividere per gli amici di facebook di condividere gli amici di instagram pure quindi vi vedo sopra e sotto andiamo a leggere che è successo perché la verità titola in questo modo attenzione per bassetti per bassetti il titolo parte con questo ascoltate perché veramente ha dell'incredibile per bassetti amici e amici ve lo metto in primo piano mi tolgo io su facebook mentre instagram continuate a vedere semplicemente me attenzione per bassetti guardate il titolo sono colpa dei novax anche le nuove polmoniti che arrivano dalla cina facciamoci vabbè partiamo così la mattina con un bel caffettino dedicato a bassetti per bassetti anche le polmonite attuali sono colpa dei novax andiamo a leggere intanto ieri sera mi hanno suggerito una cosa strana ha detto bassetti sta cancellando e vorrei che qualcuno di voi andasse a purare sta cancellando tutti i suoi vecchi post così su facebook è una cosa un po' strana perché bassetti si è messo a cancellare ogni dubbio è lecito per chi non mi conoscesse di instagram io dico sempre ogni dubbio è lecito perché bassetti si è messo amici a cancellare i suoi vecchi post su facebook ma andiamo è da capire questo ormai è completamente andato di ceric davide paschietta dice buongiorno a tutti e si è buongiorno a tutti e ciao marco grande marco ciao ciao vedo anche intanto e caraffano silvana collegati su instagram inizio a vedere i primi collegati su instagram e questa di questa cosa ne sono contento andiamo a vedere però cosa continua a dire la verità perché non c'è solo bassetti sulla verità ci sono alcune notizie pesanti una pesantissima pensate le offerte dei parrocchiani usate per finanziare le navi del no global notizia vera attenzione collegati perché la notizia è verissima è verissima le pensate pensate amici e amiche è una cosa che è sconvolgente io intanto leggo il giornale in contemporanea quindi faccio fatica a vedere due schemi il giornale dai vescovi milioni di euro a chi? a casarini imputato per traffico di esseri umani questa è la curia attuale mamma mia ma notizia pesante panorama in edicola ricostruisce in esclusiva è da andare a comprare assolutamente il fiume di denaro con cui su ordine del cardinal zuppi e con la benedizione papale la diocesi hanno permesso a lui e ai suoi compari di evitare di lavorare in un bar lucrando su migranti il 6 dicembre la prima udienza un disastro amici veramente un disastro quindi milioni di euro milioni di euro dati alle navi no global al centro in pagina invece abbiamo la lega la lega attenzione parliamo della lega sempre la verità il quotidiano la verità la lega attenzione strappa sulle bollette voi direte come strappa sulle bollette che cavolo vuol dire Robby strappa sulle bollette eh sì dice che va scongiurato la lega in mega salasso perché dicono questo perché è previsto amici un aumento delle bollette in modo spropositato so che è una brutta notizia ragazzi è una brutta notizia ragazzi però devo darla purtroppo è previsto un aumento ciao buongiorno Tony ciao Salvatore e li bloccano la linea Salvatore Pedale lo so che mi la bloccano ciao Silvia buongiorno attenzione perché è tutto vero pensano a un aumento spropositato delle bollette per questo cosa dicono dicono attenzione dobbiamo intervenire velocemente scontro tra Salvini e Fitto però domani al tavolo tecnico a Bruxelles per trovare soluzioni perché se l'Europa ci mette bastoni tra le ruote ci troveremo delle bollette triplicate e auguri auguri e intanto abbiamo andiamo andiamo a cambiare quotidiano perché c'è un'altra notizia pesante 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 attenzione l'ho vista eccoci qua il tempo il tempo dice dovreste vedere la prima pagina voi di Instagram non potete invece a Facebook gliela farò vedere a ragazzi di Facebook gliela farò vedere Ellie ragazze e ragazzi Ellie la smemorata ovviamente quando parliamo di Ellie c'è solo un Ellie a livello mondiale Ellie pensateci Ellie attacca il Premier sul mercato tutelato ovvero Giorgio Meloni è una tassa Meloni la chiamata tassa Meloni ma dimentica che lo stop fu votato pensate parliamo di altro che smemorato il mercato tutelato pensate che lo stop fu votato dal PD durante i governi Conte Draghi quindi adesso ci troveremo uno stop al mercato tutelato delle bollette e qua è veramente il casino più totale quindi ci troveremo le bollette aumentate perché lo stop venne dato amici e amiche non dal governo attuale di centrodestra ma dal governo PD quindi ulteriore gaff di Ellie Jelaine mi guardi negli occhi signora Jelaine voi piddini c'è qualche piddino su Instagram su Facebook ce n'è che ce n'è quindi Ellie Jelaine smemorata perché dimentica che il mercato tutelato lo stop al mercato tutelato delle bollette venne dato dal PD durante i governi Conte Draghi il testo è negoziato con l'Unione Europea dall'ora sottosegretario Dem Vincenzo vi faccio nome e cognome Vincenzo Amendola quindi la colpa è di Vincenzo Amendola del Partito Democratico intanto faccio qualche saluto su Instagram amici che si stanno collegando anche su Instagram è la prima diretta su Instagram quindi portate pazienza quindi Claborosa la prima pagina ovviamente del tempo perché dice Ellie smemorata un titolo grosso così è lì smemorata invece amici e amiche un altro articolo molto interessante sul tempo clamoroso a Parigi per l'Expo 2030 vince Raid con 119 voti Roma terza con 17 amici dopo il Qatar i mondiali adesso si stanno comprando tutto ci stiamo svendendo cazzo regalando l'Europa l'Europa a quei popoli che sono farciti di tanti terroristi in mezzo quindi pensate come siamo messi e poi qua parliamo e poi qualcuno ha coraggio di andare contro Israele ragazzi ci rendetevene conto non bisogna andare contro Israele e neanche contro la Palestina bisogna stare sopra le parti perché non rimanendo sopra le parti stiamo regalando tutto a questi popoli che col petrolio ce l'ha messa non si dice dove attenzione attenzione perché è notizia importante questa notizia molto importante quindi sembra banalità ma in verità stiamo regalando tutto ai paesi arabi tanto che i giocatori tanto che i nostri giocatori europei più forti i giocatori europei hanno deciso di dire me ne vado chi me lo fa fare di rimanere in un'Europa che è meno democratica che l'Arabia Saudita l'Arabia Saudita è più democratica amici anche perché vorrei ricordarlo il PD adesso sta raccontando questa storia che in Arabia c'è rispetto delle donne nei paesi arabi c'è rispetto delle donne mentre in Europa gli uomini sono tutti cattivi quindi datemi un vostro parere su questo tema perché ci stanno facendo passare per tutti per dei cattivoni noi che picchiamo le donne noi che le uccidiamo ma ragazzi ma di cosa stiamo parlando che è uno dei paesi che rispetta di più le donne a livello mondiale ok ci sono dei paesi arabi dove addirittura gli omosessuari nei paesi arabi ci sono sette paesi dove c'è la pena capitale e venite a rompere i coglioni pidini a noi italiani ma per favore ma perché non se ne vanno via dall'Italia i pidini farebbero un gesto bellissimo saremmo felici saremmo disposto a fare una colletta per pagargli il viaggio intanto dicono invece politico l'Unione Europea la mette in cima la classifica come il politico più potente d'Europa secondo voi chi è il politico più potente d'Europa secondo questo politico.eu che è un portale molto importante europeo secondo voi chi è? provate a dirlo vediamo se indovinate chi è secondo il sito politico.eu che è uno dei più importanti d'Europa a livello politico il politico più importante nei sondaggi d'Europa secondo voi chi è? Ursula von der Leyen no! Giorgia Meloni la persona più potente d'Europa pensate è stata proclamata la persona più potente d'Europa secondo la speciale classifica annuale di politico.eu l'edizione europea dell'attestato giornalistica americana politico quindi parliamo di un'attestata importantissima incredibile questa notizia cambiamo pagina andiamo a vedere cosa dice il giornale il giornale ha scritto parte così tutta pagina il giornale guardatemi negli occhi anche gli amici di facebook guardate voi ve lo faccio vedere mentre gli amici di instagram dovrò raccontarla guardate guardate la prima pagina del giornale cosa dice Italia umiliata figuraccia Roma figuraccia Roma Expo 2030 va a Riad la capitale superata anche dalla Corea del Sud la Corea del Sud ha battuto Roma ovviamente sospetti complotti del voto anche se se devo essere onesto adesso collegatevi guardatemi negli occhi secondo voi torno in primo piano anche su facebook secondo voi secondo voi ma siamo onesti Roma gestita da Gualtieri e Company è una città che può ospitare qualcosa di serio guardiamoci negli occhi chi c'è di Roma collegato c'è qualche romano collegato patume ovunque strade non giri macchine le lasciamo stare le pulizia se ne diamo un velo pietoso e cade a pezzi ci sono dei buchi per strada cade a pezzi quindi con tutto rispetto odio Bassetti Antonella non si dice che non devi odiare nessuno noi benediciamo Bassetti io lo benedico Bassetti gli auguro 30 dosi 30 dosi e andiamo avanti quindi figuraccia Roma Italia umiliata purtroppo Riad si è beccato tutto e noi nulla e noi nulla abbiamo cambiamo pagina cambiamo pagina andiamo a vedere invece cosa dice il fatto quotidiano attenzione fatto quotidiano le auto marchette di Gasparri sul PNRR se parliamo di cyber security lo state vedendo la pagina andiamo a vedere la paginona qua amici perdonatemi eccoci qua sul giornale punto it il giornale dice le auto marchette di Gasparri non il giornale il fatto quotidiano perdonatemi appalti per 66 milioni con siprai e arma gare e SPA legate a Cyber Realm e quindi se la piglia il fatto quotidiano con Gasparri Gasparri che sarà simpatico a quasi tutti voi ne sono ne sono certo vabbè cambiamo quotidiano Libero Libero va giù pesante Libero va giù pesante e rissa sulle utenze dice Libero rissa sulle utenze perché ecco tutte le novità amici sui rincari sui rincari che cosa io penso che molti di voi non la prendono sul serio la cosa ma quando vi troverete vi troverete delle bollette da 700 1000 2000 euro e non avrete i soldi per pagare dopo direte cazzo Robi giusti aveva ragione ecco tutta la verità sui rincari in bolletta stop al mercato tutelato dell'energia la sinistra attacca il governo ma è stato gentiloni nel 2017 a far scattare la tagliola per i cittadini quindi attenzione la sinistra adesso grida facciamoli gridare vero Elislein non compri urlate urlate siete stati voi che avete messo la tagliola e via il mercato tutelato quindi se aumenteranno le bollette è tu solo colpa dei provvedimenti presi dal governo di centro-sinistra dal PD quindi è colpa del PD quindi di contanto al centro pagina abbiamo Caput Roma Caput Mundi Gualtieri perde l'Expo e arriva terzo su tre candidati complimenti complimenti a Gualtieri bravo Gualtieri progetto eccellente la stampa attenzione sul salvabolletti Salvini e PD contro Meloni Salvini e PD contro Meloni PNRR c'è la quarta rata la Premier usiamo tutto ma nel 2024 buco da 10 miliardi di buco pronto siamo finiti siamo finiti andiamo a vedere che dice invece Repubblica bagarre sulle bollette quindi anche Repubblica parla degli ex presidenti della consulta non dice però che è stato il PD e Repubblica ovviamente ovviamente Salvini attacca fitto la maggioranza si divide sull'obbligo di passare al mercato libero la Ghislaine è una tasso a Meloni il leghista apre le porte all'ultra destra europea domenica a Firenze raduno con i sovranisti di Wilder Le Pen e Wild però cara Repubblica ti sei dimenticata hai omesso una piccola cosa cara Repubblica non hai detto che è il PD che ha deciso di togliere il mercato tutelato quindi grazie Repubblica per onestà veramente veramente corretti e invece corretto valutare i PM il Corriere della Sera parla ancora dei PM intervista a Nordio i test psicoattitudinali non li vedrei lo scandalo siete d'accordo nel valutare i pubblici misteri i PM i giudici che anche loro vadano vengono messi in discussione in sostanza io sono assolutamente d'accordo intanto mi dicono ancora Cristian dice ancora il Bassotto si il Bassotto ha detto adesso andrò farò un servizio dedicato ha detto in sostanza Bassetti che che praticamente è colpa dei Novax anche questa cosa delle polmoniti che arrivano dalla Cina vabbè stendiamo un velo pietoso intanto noi rimaniamo coerenti e dritti per la nostra strada con questo vi auguro una buona giornata ciao ragazzi di Facebook e tutte le persone che mi seguono da tempo su Facebook e saluto anche la gente di Instagram è la prima direttina che faccio su Instagram non so come sia andata però chi non inizia ovviamente non potrà mai alla fine ottenere risultati detto questo vi saluto ciao a tutti vi chiederei di condividere commentare il commento vostro è importante vi voglio bene buona giornata